Ho ricevuto anche questa lettera. Ciao Romano, il tuo ultimo video l'ho veramente apprezzato perché hai parlato con umiltà e mi hai veramente colpito. Ti avevo conosciuto tramite Serafino Massoni quando seguivo il suo canale. Non ho condiviso, forse perché non sono riuscito a comprenderlo, il tuo sciopero della fame per incontrare il Papa. Non era sciopero della fame. Ne parlerò meglio dopo. Adesso andiamo avanti a leggere. A Singhiozzi ho continuato a vedere il tuo canale, a volte con convinzione, altre volte con spirito prevenuto proprio per quello sciopero e quella pubblicità mediatica che hai voluto creare o che ti hanno voluto cucire. Non ho smesso di osservarti perché sono assetata di spiritualità e chiunque ne parli accresce ai miei punti di vista può farmi cambiare prospettive o semplicemente avvicinarmi di più a Dio, col quale ho un rapporto poco assiduo. Da Lui mi allontano e poi lo cerco per il desiderio di riprendere coscienza di una dimensione più alta e appagante rispetto alla materialità. Mi spiace se da parte mia hai ricevuto commenti bruschi. Io preferisco espormi in modo sincero e non per convenienze. Grazie e a presto.